La storia di questa storia inizia dal titolo dell'evento. La cancelliera tedesca infatti incontra alcuni studenti per parlare della vita bella che si fa in Germania. Questo è il titolo. Vita bella che per questa ragazza palestinese, scappata quattro anni fa da un campo profughi in Libano, sta per finire. Lo racconta in un tedesco ottimo e anche la ascolta. Per me è un periodo davvero duro. Si avvicinò al giorno in cui dovrò andarmene e per questo sto molto male. Anche qui a scuola lo sanno tutti e per questo che... La cancelliera la interrompe, si interessa e chiede se davvero le hanno detto che dovrà tornare in Libano. Esattamente così. E allora Angela dà spettacolo. Sì, ti capisco, tu sei una brava ragazza ed io ho un politico ed è dura, ma lo sai che in Libano e in altri paesi ci sono migliaia di persone come te che vorrebbero andare via da lì, dall'Africa. Cosa facciamo? Li facciamo venire qui tutti? Lo capisci che non possiamo farlo? Dobbiamo risolvere molte situazioni, ma è chiaro che qualcuno dovrà andare via. Sono un politico e non posso che dirti la verità. Da noi chissà come sarebbe andata. Forse una promessa di interessamento ci sarebbe scappata. Forse si sarebbe ottenuto uno strappo alla regola con Angela e la Germania si interroga. Invece no. Non solo. Quando la ragazza di fronte a quella risposta cruda e diretta, devi tornare a casa, scoppia in lacrime, la cancelliera dopo averla consolata le dice. Comunque brava, prima hai fatto un'ottima presentazione. La ragazza continua a piangere ed Angela tornata al centro della sala spiega ancora che tanta fermezza è dovuta alla voglia di non vedere più situazioni simili. Va detto che la ragazza non godrà più dei benefici di rifugiata perché il Libano non è considerato teatro di guerre che giustifichino appunto lo status di rifugiato a chi riesce ad emigrare verso nord. Il presentatore, prima di chiudere, chiede espressamente se la cancelliera prenderà minimamente in considerazione il caso della palestinese. Lei risponde. Sì, ma ne abbiamo già parlato poco fa. Sfortunatamente lei non è la sola persona in queste condizioni.